Eccoci ragazzi in Shinjuku di notte, nel cavalcavia Sono le ore, vediamo se riesco a prendere il cellulare in fretta, no, non riesco a trovarlo Comunque penso 11.30, mezzanotte Andiamo Sì, le 11.43 di preciso Come potete vedere siamo nella strada principale che porta la stazione ma è praticamente vuota sia di pedoni che di auto Guardate, i grattacieli che si stendono Andiamo dall'altra parte Va ancora più vuoto, praticamente è tepprimente Arrivano le macchine, arrivano Arrivano, arrivano Arriva la civiltà Venite Già incomincia a incazzarsi la civiltà Eccole lì Abbiamo appena preso qualcosa da mangiare Vi faccio vedere subito, che poi dovrei vergognarmi a farvelo vedere perché è McDonald's Però abbiamo scoperto un posto fantastico dove vendono i manga Che sarebbero questi dentro questa borsona E dove Era il settimo piano a Shibuya E ho speso un patrimonio Con questa bella vista ragazzi vi lascio Ok Penso molto soft La gente che passa davanti Una batteria ben tratta Un contrabassino Quelli solidi Come si sta a rimanere? E' bello che ti passano tutti davanti praticamente quando stai registrando Bellissima sta cosa 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 Sì